Bones and All. Luca Guadagnino dirige una storia d'amore bellissima, una storia d'amore dolce e malinconica, oserei dire crepuscolare, un po' come l'America che ci vuole descrivere. Guadagnino usa una regia matura e ben dosata con dei piccoli cambi di stile ogni tanto che rendono veramente interessante la messa in scena. La storia scorre lenta come il viaggio dei nostri due protagonisti con dei rallentamenti che a volte possono risultare un pochino forzati ma che non impugniscono allo spettatore di crescere, di sentire questa storia, di sentire questi due protagonisti che si trovano ad affrontare una cosa terribile, il cambiamento, il loro essere diversi e soprattutto a cercare una delle cose più difficili da fare nella vita, ovvero trovare il proprio posto nel mondo. Guadagnino dirige un road movie un po' atipico, un po' diverso dal solito, non sono le persone che incontriamo durante il viaggio ma il viaggio stesso il protagonista, un viaggio che dà poche risposte ma pone le giuste domande allo spettatore. Guadagnino poi mescola il road movie ad un'altra storia atipica, una storia d'amore un po' strana, un po' diversa dai canoni, una storia d'amore tra due ragazzi che è più una storia di lenta connessione, l'amore totale che li prende, che li catturerà, lo vediamo un po' avanti nel film. È molto più importante per Guadagnino capire come questo amore nasce più che farlo vedere in sé, nella sua totalità. Guadagnino poi oltre alla storia d'amore, oltre a road movie ci aggiunge anche un altro genere e lo sfrutta al massimo, utilizza l'horror, utilizza il suo horror che ci aveva già abituati con, con il quale ci aveva già abituati con Suspiria e utilizza l'horror in modo politico, questo è un film estremamente politico. È un film dove vediamo questa America, questa America delle periferie, questa America devastata, tutta quanta uguale ovunque andiamo e vediamo solamente personaggi disperati, vediamo solamente personaggi persi che vorrebbero trovare il loro posto nel mondo ma che molto probabilmente non lo troveranno mai. Troviamo gli ultimi, i diversi e Guadagnino ci vuole raccontare loro, le persone che sono ai margini della società e che ai margini della società rimarranno sempre e non c'è salvezza per nessuno di loro e probabilmente non ci sarà, lo vedremo alla fine forse, non ci sarà neanche salvezza per i nostri due protagonisti e forse il loro amore rimarrà, forse sì, forse no, una cosa immortale o forse un qualcosa che invece si spegnerà tragicamente. Bones and all, Luca Guadagnino riesce nella mirabolante impresa di fare due passi indietro nella sua carriera, sbattere la testa su una mensola sporgente e cadere svenuto per due ore e dieci sul pavimento dove non si capisce se è vivo o se è morto, un po' come questo suo ultimo film dove non si capisce se sta partendo, se è già partito o se è semplicemente in un come irreversibile per tutta quanta la durata del film. Guadagnino affronta tre generi in questo film e riesce a mancarli, a sbagliarli tutti quanti. Il road movie non è un road movie perché non c'è un viaggio, c'è un giro tondo, i protagonisti girano in tondo per tutto il film fino a ritornare al punto di partenza. Non abbiamo una vera storia d'amore perché questa storia d'amore non decolla, sembra perennemente in accelerazione sulla pista di partenza ma non decolla mai, non prende mai il volo, non si capisce neanche se questa relazione che hanno questi due sia qualcosa dettata dall'amore, dall'attrazione, dalla necessità di stare insieme, dall'obbligo di stare insieme perché non sia nessun altro o se è una specie di rapporto fratello e sorella tra due non consanguini. Non è ben chiaro e quando si arriva all'horror Guadagnino ci dimostra ancora una volta che le scene horror non sono roba sua. è molto bravo nelle scene ansiogene ma l'horror proprio non ce la fa. Le sue scene splatter dove c'è il sangue dove c'è lo sporco non sono sporche, non sono sanguinolente, non fanno schifo, non c'è il disgusto. Le sue scene sono sempre estremamente pulite, non so come faccia sinceramente ma ogni scena dove c'è il sangue dove ci dovrebbe essere lo schifo sembra che sia passato qualcuno a lucidare tutto quanto ed è tutto quanto troppo pulito, non funziona. Guadagnino torna al suo horror politico, il suo tipo di horror che ci ha fatto vedere in Suspiria, che in Suspiria funzionava molto bene perché il tema era centrale, era uno ed era semplice. Il tema centrale sfugge in questo film, non si capisce se Guadagnino ci voglia far vedere un horror, una storia che parla di predatori, che parla di animali che si comportano in questo modo non perché sono cattivi ma perché è la loro natura, perché è il loro istinto, perché non possono farne a meno. Ma non sembra affatto che questi due non possono fare a meno del cannibalismo. All'inizio sembrerebbe così e sembrerebbe prendere una direzione molto chiara, ma per il resto del film non lo è. Cosa volevi raccontarmi Guadagnino? Volevi raccontarmi una storia di ultimi, di outsider, di persone che sono obbligate a rimanere in quella posizione sociale che nonostante tutto ripercorreranno gli stessi errori, rifaranno le stesse cose nonostante la loro volontà. Ma fai un errore, fai un errore a rendermi il cannibalismo una cosa che viene passata per ereditarietà. Fai un grossissimo errore perché non funziona. Questo è un discorso eugenetico, l'idea che qualcuno si comporta male perché è così nella sua famiglia. Avrebbe senso se appunto il rapporto con i genitori fosse stato un pochino più elaborato e ci facesse capire che nonostante gli abusi, entrambi hanno cercato di cambiare le proprie vite ma ritornano sugli stessi passi, ma non funziona perché poi loro non me li fai tornare sugli stessi passi veramente. Perché questa cosa del cannibalismo, l'ho già detta, non è una loro necessità assoluta al quale devono tornare per forza. È una cosa che semplicemente possono non fare e quindi non si spiega, non sta in piedi il discorso. E concludo dicendo che sarebbe il caso di cominciare a denunciare penalmente tutti quelli sceneggiatori che all'interno della loro storia ci mettono la scena spiegone, pippone, strappalacrime. La scena dove i due protagonisti si siedono uno di fronte all'altro, uno dei due racconta un qualcosa del suo passato che è così terribile, così commovente, così ben recitato che la coprotagonista si reinnamora di lui un'altra volta. Gli spettatori piangono enormemente e tutti quanti vedono quanto è bravo a recitare è il protagonista. Possiamo eliminarla definitivamente questa scena dalle storie nei prossimi film che vedremo perché è veramente una cosa che ha rotto i maroni definitivamente. Salve a tutti, io sono Paolo e questo era un esperimento. Anzi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, argomentate se volete, fatemi sapere se volete altri esperimenti di questo tipo. Possiamo definirlo una provocazione, se vogliamo, uno spunto di riflessione, uno spunto di conversazione. Volevo farvi vedere come un film possa provocare nello stesso spettatore, ma in questo caso, delle sensazioni diverse riguardanti quello che ha visto e cambiando leggermente, diciamo così, la sensibilità ad alcune cose si possono arrivare ad avere due recensioni completamente opposte. In questo caso, queste due recensioni convivono dentro di me e non ho ancora deciso quale delle due è quella più vicina alla mia verità, alla mia vera opinione. Ed è questo il messaggio, l'idea che io voglio lanciare, sul quale voglio che voi riflettiate. L'unica opinione, l'unica vera opinione che conta alla fine della giornata e che conta veramente nella vostra vita è la vostra. Quindi andate al cinema, andate a vedere Bones and All e fatevi la vostra idea riguardo il film. Ragionateci sopra, tornate eventualmente sulle mie recensioni che magari vi hanno fatto scoprire qualcosa, vi hanno fatto vedere le cose in modo diverso, rifletteteci sopra e arrivate alla vostra conclusione perché è l'unica conclusione che conta veramente. E se vi va, qui in descrizione trovate il link ad altri miei lavori come ad esempio i miei ultimi cortometraggi che mi farebbe veramente tantissimo piacere se andate a vedere. Noi ci vediamo alla prossima, vi ringrazio per avermi seguito e buona fortuna a tutti!